Sara ha chiamato i carabinieri, io ho chiamato mia mamma perché uscisse dalla finestra per spaventare i ladri. Abbiamo capito che era la finestra principale della cucina, quindi paura, paura tanta. Si sono barricate in casa quando hanno sentito il rumore. I ladri a Sanfior sono tornati ed hanno cercato di entrare nella loro abitazione mentre si trovavano all'interno. Un colpo secco alla finestra e il sensore di rilevazione delle persone che cade. Secondo me ci stavano già controllando perché sanno benissimo che io mi alzo le sette per andare a lavorare in banca i miei si alzano tardi, Sara lavora la sera di futracco a pizzeria, quindi va tardi la sera. Quindi dicono a quell'ora là sicuramente stanno ancora dormendo. La paura è stata tanta, è tanta, infatti noi stanotte non abbiamo dormito nella nostra abitazione ma abbiamo dormito da sua mamma perché avevamo paura. Infatti ho passato una notte insonne, alle tre mi svegliavo, sentivo fin le sirene nelle orecchie e non c'erano. In aria magari pensano che ci siano soldi, vedono il furgone, c'è un'attività, quindi questo furgone qua magari chissà cosa mettono loro in testa, nelle loro teste. Infatti da quando abbiamo il furgone abbiamo già avuto due o tre visite. La sensazione di essere spiati e l'angoscia che ci sia qualcuno che ti aspetta al rientro a casa, questo è quello che rimane dopo il terzo furto o tentato furto subito. Il sospetto che serpeggia è che possa trattarsi di una banda di ragazzini che sta colpendo da giorni a San Fior e che è tornata alla ferramenta Basso per un pugno di spiccioli. Due scassi furti con scasso a distanza di un giorno sono entrati ma non hanno preso niente alla fine, niente di che insomma. Solo la moneta e il fondo cassa 20-30 euro. Diciamo anche che adesso stiamo cercando di fare delle ronde notturne perché abbiamo paura, tutti quanti il paese ha paura e quindi per salvaguardarci uno con l'altro stiamo facendo questo. Nelle stesse ore, pochi chilometri di distanza, i ladri si sono introdotti all'interno degli uffici della distilleria a bottega di Godega di Sant'Urbano. Entrati da una porta trovata aperta hanno raggiunto la cassaforte e hanno cercato di forzarla ma sono stati messi in fuga dalla ditta di pulizia. Dagli Stati Uniti, dove si trova Sandro Bottega titolare dell'azienda, insieme al fratello Stefano invoca l'intervento di governo e magistratura. Certezza della pena dice legittima difesa che sia definita una volta per tutte e carceri costruite direttamente dagli stessi detenuti per ripagare il loro sostentamento.